Nell'ultimo webinar dedicato alle criptovalute, in particolare all'Altcoin, siamo andati a vedere grafici alla mano cosa potrebbe succedere lato cripto nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Andiamo a vedere cosa possiamo aspettarsi e chiaramente se possiamo spremere delle opportunità da questo mercato. Siamo a dedicare solo pochi secondi in attimo per capire dove siamo a livello di prezzo con Bitcoin per il breve. Abbiamo una posizione oltre a quelle di accumulo anche speculativa che è proprio questa qui, l'ultima che siamo entrati proprio nel minimo del piccolo ritracciamento di questa fase. di congestione, stiamo andati a vedere dove il prezzo può arrivare però come vedete abbiamo un target che è abbastanza contenuto per il breve perché appunto vedete già che c'è l'altra proiezione e ci aspettiamo magari dei piccoli storni che sono appunto ciclici quindi ci aspettiamo che il prezzo magari possa salire sì un pochino ancora ma poi potremmo avere appunto uno storno verso il basso. Parlando di ciclo di mercato qui mettiamo un grafico molto interessante che parla del crypto cap quindi la total market cap quindi quanti soldi ci sono nel mercato cripto escluso però Bitcoin quindi tutta questa percentuale qui tutti questi soldi sono delle altcoin. Questi segmenti che vedete sono i precedenti altcoin che abbiamo tracciato quindi l'altcoin del 2016 è in nero, l'altcoin del 2020 è in arancione e l'altcoin che sarà per arrivare tra 10 giorni è in blu. Qui cosa possiamo vedere? Beh allora molto semplicemente che questo essendo un grafico delle altcoin quindi che esclude Bitcoin possiamo vedere che è sempre stato che dopo l'alving quindi dopo il dimezzamento dell'inflazione di Bitcoin c'è stato un piccolo periodo di diciamo consolidamento per poi vedere queste alt che prendono il sopravvento quindi fanno fare dei numeri molto più importanti rispetto a Bitcoin e danno dei ritorni molto più importanti e come danno dei ritorni più importanti vediamo anche che dopo questo punto è una fase momentanea che dopo c'è sempre un ritracciamento quindi bisogna essere consci di quello che si fa perché anche se le opportunità sono veramente importanti però c'è il rischio di rimanere con il cerino in mano e se non si sa appunto uscire a livelli giusti si può appunto ritrovarsi con l'altcoin in portafoglio allo stesso prezzo di acquisto e aver lasciato su carta tutti i guadagni. Ti ricordo che questo è un estratto del crypto webinar del mercoledì trovi il video per intero nel canale YouTube investire.biz.crypto. C'è stato anche qui nel 2020 questo qui è il covid crash però c'è stato un piccolo consolidamento e poi siamo partiti verso l'alto possiamo anche vederlo in percentuale che abbiamo fatto ben un 230%. di apprezzamento in più rispetto a bitcoin e adesso siamo proprio nel periodo più interessante perché se si ripete appunto il ciclo passato possiamo vedere delle piccole candele qui siamo sul mensile quindi magari un piccolo rallentamento di questa dominance per poi vedere il prezzo che se andiamo a tirare un più 200% circa rispetto al passato arriviamo a livelli molto molto importanti che potrebbero appunto farci capire che adesso che siamo ancora in questa fase di debolezza di dominance dell'altcoin che potrebbe essere interessante cercare di posizionarsi e ovviamente farlo in progetti che conosciamo che abbiamo studiato che potrebbero darci dei ritorni molto molto importanti. Ora che abbiamo visto cosa è successo nel passato ecco come abbiamo deciso di muoverci noi. Abbiamo deciso questo periodo di tempo che è il periodo perfetto di studiare molto molto nello specifico tutti quei progetti che sono alternativi a bitcoin e che a nostro avviso possono performare molto di più di bitcoin. E porteremo anche degli esempi questa sera quindi mi raccomando rimanete qui perché abbiamo molte cose da vedere. Quindi abbiamo in questi mesi nello specifico Christian che è decisamente più esperto di me abbiamo studiato tutte quelle altcoin che al momento sono estremamente sottovalutate e che post halving potrebbero apprezzarsi tantissimo. Tra l'altro ragazzi queste sono delle altcoin su cui anche noi abbiamo investito dopo un approfondito studio e per questo quindi abbiamo deciso di inserirle nel report che vedete qui. Investire in altcoin nel 2024 parlando poi di cicli adesso con Christian capirete che è ottimo sia per il 2024 che per il 2025. Ma come diceva la cosa più difficile non è tanto quella di individuare la cripto che può fare per 100 per 10 per 20 ma la parte più difficile è come al solito come nel trading tradizionale gestire questa posizione e quindi la gestione del trade perché decisamente saranno comunque dei trade super speculativi. E nel report c'è proprio anche questo infatti poi nel gruppo telegram gratuito dedicato andremo ad aggiornare quelle che sono le posizioni e quant'altro andando a fare poi una panoramica su un grafico a torta di quella che è la nostra percentuale quindi vedrete con quanto siamo entrati su quali altcoin quali sono i nostri obiettivi e magari anche quali sono i vari livelli di ingresso. Tra l'altro ragazzi lo vedete qui il report è scontato del 50% fino alla prossima settimana quindi approfittatene perché poi costerà il doppio sapete bene che se un altcoin ci fa il 10 per 20 per 100 per è chiaro che questo report ve lo ripagate in 10 minuti. Bisogna quindi approfittare a mio avviso di questa occasione che abbiamo voluto dare a 149 che secondo me è un prezzo veramente molto molto contenuto perché vogliamo dare un progetto di lungo termine a tutte quelle persone che sono interessate alle criptovalute perché come dicevamo prima poi ci sarà un aggiornamento costante. Se nel corso di questo tempo ci saranno anche dei nuovi progetti quindi delle nuove criptovalute a bassissima capitalizzazione che secondo noi possono essere gli asset che possono performare nel breve termine andremo ad aggiornare quindi faremo tutti parte di questo grande gruppo legato alle criptovalute. Tra l'altro io voglio fare un piccolo spoiler prima di continuare posso ritenermi fortunato perché ho di fianco un cripto specialist e lo posso testimoniare qui perché ci sono molti progetti interessanti e li vedrete anche voi se acquisterete il report la settimana prossima perché su una di queste cripto io ho già fatto grazie a Cristian perché io manco la conoscevo aveva 15 milioni di capitalizzazione è passata ora 100 milioni io ho fatto più del 500 per cento. Quindi l'ho visto con i miei occhi e sono cose reali ovviamente qual è anche l'altra parte difficile individuare l'exchange dove sono quotate queste altcoin perché sono interessanti e tutto il progetto sottostante quindi veramente sarà un progetto completo non solo nel breve ma anche per il lungo termine. Vorrei aggiungere una cosa adesso sto registrando lo schermo del mio telefono ma non vedete qual è la criptovaluta ma vedete quanto ho depositato e quanto ho adesso. Io ho depositato 1300 USDC e adesso ne ho 5300 questo è il grafico del mio exchange dove ho solo un progetto quindi il progetto che mi ha detto Cristian da 1000 dollari 1000 euro che ho messo ma adesso ne ho 5500. In realtà è anche sceso Cristian oggi prima avevo 7 8k adesso ne ho 5 però sono veramente interessanti questi progetti perché soprattutto quelli a bassissima capitalizzazione possono dare delle soddisfazioni importanti. Ma come in questo caso se non sappiamo bene quando uscire qual è il rischio il rischio è che poi magari una volta raggiunti dei certi livelli che abbiamo studiato nel dettaglio questi progetti poi subiscono magari una flessione importante e vadano poi a erodere tutto il profitto fatto quindi come detto è la gestione del portafoglio che è la parte più importante. Quindi diremo tutto nel webinar dedicato al report quindi ragazzi sarà tutto estremamente semplice e chiaro. Andiamo ora a vedere un esempio di un altcoin che ci siamo messi in portafoglio ben 10 mesi fa quindi in pieno bear market come si è comportata e se le nostre previsioni appunto erano corrette. Andiamo a vedere il webinar che avevamo fatto con Luca circa 10 mesi fa dove parlavamo un attimo di Chainlink appunto lo possiamo anche fare andare in play un attimo perché appunto avevamo sfruttato tutto questo periodo di riaccumulazione per costruire delle posizioni perché veramente era un progetto che ritenevamo appunto che arrivasse a dei target molto molto precisi che adesso andiamo un attimo a sentire. Lo metto velocemente quando gli investitori credono che Bitcoin e Ethereum gli abbia già dato tutto iniziano ad andare su queste altcoin e le prime chiaramente sono le più strutturate e le più conosciute. Per questo è interessante valutare di costruire una posizione rialzista già da questi prezzi perché come vediamo ha un buco Ethereum, ha un buco Bitcoin, adesso qui c'è un bel buco anche Chainlink che potrebbe portare il prezzo fino a circa 21 dollari quindi è un trap per da dove siamo adesso. Vi faccio vedere che qui le linee parlavano di Chainlink che dava un livello target circa di 21 dollari e possiamo andare anche a vederlo nel grafico che abbiamo appunto raggiunto esattamente questo nostro target un pochino più in ritardo di quello che pensavamo comunque nel 2023-2024 abbiamo raggiunto appunto il target sfruttando questa accumulazione abbiamo appunto accumulato delle posizioni e siamo andati a portare a termine appunto questa prima fase di target per questa altcoin e adesso magari andiamo a vedere se possiamo portarla addirittura più in alto. Le altcoin prenderanno sempre più piede se appunto il passato si ripeterà anche per questo ciclo perché qui vediamo che sempre diviso per Alving quindi 2016, 2020 e 2024 questo è il grafico di CryptoCup, la dominance di Bitcoin quindi solo quanto Bitcoin conta in tutta la market cap delle crypto che è questa qui quindi 2.69 trilioni andiamo a vedere che qui Bitcoin tende sempre dopo Alving diciamo a perdere Dominance per lasciare appunto spazio alle altcoin che salgono ovviamente qui si vede quello che abbiamo visto nei grafici precedenti quindi c'è un piccolo periodo di consolidamento dopo Alving e poi le alt partono veramente a risucchiare soldi perché questi sono soldi da Bitcoin. È successo nel 2016, è successo nel 2020 dopo il Covid crash e magari adesso la dominance di Bitcoin potrebbe ulteriormente abbassarsi portando a tutto il panorama altcoin, quelle che ci sono e quelle che magari nasceranno che andremo a posizionarci e ad inserirle nel report portare liquidità e magari farci fare dei guadagni molto molto importanti. Questa qui è la total market cap delle altcoin escluse Bitcoin e Ethereum quindi quelle un pochino più piccole. Vediamo una cosa molto interessante perché qui se sapete che il grafico di Bitcoin è andato appena sopra ai massimi storici le alte non hanno ancora visto come abbiamo già detto nei webinar precedenti tutto l'afflusso di liquidità che ha già visto Bitcoin. Perché? Perché semplicemente sembra proprio che questo ciclo sia rispettato come i precedenti prima i soldi vanno su Bitcoin e poi quando abbiamo raggiunto i massimi, abbiamo raggiunto le halving iniziano un po' a spostarsi nel sottobosco delle altcoin e sembra proprio che adesso qui ci sia spazio per salire e magari come ho già detto prima i massimi precedenti solitamente avvengono obliterati possiamo vedere trilioni e trilioni di liquidità che entrano nel panorama altcoin facendo pensare addirittura che questo rialzo sia ridicolo in confronto a quello che potrebbe arrivare. Quindi vi dico se magari volete posizionarvi nel panorama altcoin è un periodo questo dove non ho ancora visto molte liquidità arrivare nelle alt, cercare di posizionarsi, cercare di metterseli in portafoglio e perché no gestire la posizione come facciamo noi e vedere il portafoglio crescere per il 2024 e 2025. Se ti interessi anche tu gli investimenti lato crypto, in particolare altcoin, c'è un webinar dedicato a chi acquisterà appunto il report mercoledì prossimo, quindi mercoledì 17 di aprile ore 18, che ti lascio il link appunto qui sotto in descrizione poi noi di investire.biz facciamo comunque un webinar gratuito per tutti ore 18 ogni mercoledì che ti lascio qui anch'esso il link qui sotto in descrizione.